Dicevo dottoressa, il fine sarebbe lasciarlo quando avete tempo, lasciarlo meno giorni possibili perché con l'uso che ne faccio io, ovvero il video racconto, anche se volessero dei presenti fuori Allora, noi le facciamo il test, vediamo dal test se mi risulta il difetto se il difetto non mi risulta ovviamente glielo riconsegno così, proprio perché dal portale non lo posso Ah, ma lo otterrebbe adesso? Sì, dieci minuti Ah, no, allora aspetta, scherzo Poi dici di sblocco? No, no, non c'è nulla Quindi problemi audio-vocali è... Sì, sono alle volte 1 su 10, 1 su 15, molto granchiante, proprio sovrappone Vedo che qui utilizza Wind e ha il servizio volte attivo quindi questo è un servizio che si attiva automaticamente Il servizio? Volte, scritto in piccolo però... Non lo conosco, ma vado a poca parte È un servizio che si attiva automaticamente e permette quindi di passare dal 5G al 4G Quindi prima mi diceva che non in tutte le zone le dà il difetto No, 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 non credo sia un problema di zone Sì, io adesso... Aspetti che riprovo Proprio un'onda... Arrivo un attimo Il messaggio vocale è un conto Aspetti, eh Lo mando a me stesso Vedi? Qua? Ok Prima ho lasciato due messaggi vocali Tre, anzi, li ho dovuti cancellare Perché era un'onda tutta così Da muto Capiscerò semplicemente in macchina Quindi questo è uno, ma non importa L'altro è che se mi dicesse Ok, facciamo questa intervista Fai quello che vuoi Io faccio anche mezz'ora E l'audio è gracchiante Non c'è audio, capisci? Cioè, scusi E' inascoltabile E anche nella registrazione dei video Qualche volta, qualche volta Qualche volta Sia in diretta che in differita Sa, se è una cosa per me molto importante Faccio anche brutta figura con l'interlocutore Capisci? Andiamo un attimo Sì, sì, non ho fatto Quanto mi sente? Prego